La Procura della Repubblica di Avellino ha aperto un'inchiesta per la morte di Amato Caposela, 55 anni, geometra alla CCP di Arcella, fabbrica del nucleo industriale del capoluogo irpino. L'uomo è precipitato giovedì sera in una vasca adibita per la lavorazione del cemento da un'altezza di 10 metri. Presto verrà ascoltato il titolare dell'azienda per capire se ci siano responsabilità alla base di questa ennesima morte bianca, la sesta in Irpina nel 2022, anno in cui si contano quasi 1300 incidenti sui luoghi di lavoro. Il sindacato parla di tragedia annunciata. La morte del geometra Amato Caposela ci ripropone con forza, con gravità e con drammaticità nella questione della sicurezza sui luoghi di lavoro. È una materia che da tempo non può interessare solo ai lavoratori, è una materia che deve interessare tutti noi, intesi come organizzazioni sindacali, come associazioni datoriali, le istituzioni e anche la cultura della tutela della vita sui luoghi di lavoro. Su questo puntiamo da tempo e siamo certi che anche le istituzioni, appena avremo siglato definitivamente con la regione il protocollo che abbiamo previsto con la prefettura, capiranno che non servono dei riscontri formali o burocratici, servono dei riscontri oggettivi sui luoghi di lavoro che, da come ci viene raccontato in molti casi dove non è presente il sindacato, sono assolutamente fatiscenti e poco sicuri. Ma questa è materia che seguiranno praticamente anche in questo drammatico evento le istituzioni intese come forze dell'ordine e gli altri competenti.